Termina 0-1 la gara della quinta giornata del campionato di eccellenza giro NB tra Fiericcione ed Argentana con gli ospiti che allo stadio Nicoletti hanno finalizzato al meglio la supremazia mostrata sul campo durante l'arco dei 90 minuti. La cronaca. Ottavo minuto. Scambio tra Fabri e Boschi sulla sinistra. Arriva dalle retrovie Formigoni che di destro cerca di sorprendere Passaniti senza fortuna. Un minuto dopo Albonetti crossa dalla sinistra. Il portiere di casa si arrangia con una mano servendo però Formigoni. De Luigi è attento e allontana. Al tredicesimo Centonze lancia Boschi che sorprende il portiere ospite ma per il direttore di gara è fuori gioco e annulla per irregolarità. Al diciassettesimo ancora un'azione dalla sinistra con Centonze che trova Filippi ma l'incornata è fuori dallo specchio. Al ventiduesimo da un disimpegno errato della difesa granata nasce l'azione del Berigi che è lesto a recuperare palla sulla tre quarti ma senza impensire l'estremo ospite. Al ventinovesimo il tiro a Campanelli di Fabri cerca di trovare il portiere di casa impreparato ma la sfera finisce ampiamente fuori. Al quarantunesimo Boschi sulla sinistra scambia con Filippi per Formigoni ma il tiro del capitano ospite viene sporcato e viene neutralizzato da Passaniti. Si chiude così il primo tempo sul risultato di 0 a 0. Il secondo tempo si apre ancora una volta di marca argentana. Frighi crossa dalla destra, Borghini la spizza deviandola, Formigoni di petto la devia verso il portiere ma Boschi non compie il guizzo vincente. Al quinto minuto Centonze si destreggia sulla sinistra e si accentra l'attaccante ospite calcia creando apprezzione nel portiere di casa. Al nono Formigoni va via sulla destra e scambia con Filippi che va alla conclusione. Passaniti è pronta e blocca la conclusione. Al quindicesimo Boschi cerca di impensierire ancora una volta la difesa della FIA. L'avanti dell'argentana raccoglie un disimpegno errato, salta un difensore ma al momento di concludere l'alza troppo senza centrare lo specchio. La rete che risolve la gara in favore degli ospiti arriva al diciannovesimo della ripresa. Di Domenico mette in mezzo per Formigoni che assiste Boschi e di testa non lascia a scampo la difesa biancazzurra. 1-0 argentana sulla fiericcione. Al trentaduesimo fa capolina nell'area ospite la fiericcione. Censoni in becca docente che riesce solo a sfiorarla di testa senza indirizzarla in porta. La palla è fuori. Al trentaquattresimo Filippi recupera la sfera. Si accentra e tira. Brown corre una volta passanita e deviarla in corner. Al quarantesimo si fa vedere ancora la FIA con Enchisi che raccoglie il cross di Borghini dalla destra. l'incornata però sfiora solo la traversa. Al quarantaquattresimo altro gol annullato agli ospiti. Formigoni lanciato dall'estremo Santo Polo calcia in sacca ma per l'arbitro il sette ospite è oltre la difesa biancazzurra. In pieno recupero sono veementi le proteste dei biancazzurri verso Antonio Liotta di Castellamare di Stabia che non giudica da rigore il corpo a corpo tra Brandolino e Benito Docente. La gara termina così 0 a 1 in favore degli ospiti che colgono il primo successo stagionale. La Firiccione che raccoglie la seconda sconfitta consecutiva rimane ferma a 5 punti in classifica. Domenica prossima sotto con il derby contro il tropico coreano.